Musica 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 Mi stai guardando il disgrisciolo quando mi guarda la persona e l'ultima cosa tossa ti sentiva e dice come ti guarda Disgrisciolo Ma desgrisciolo sarebbe praticamente disbiego, però, ciao Ivo, però disgricione si dice pure si una, non solo si una, tu guardi... Stai proprio a chiedere che te l'occhio sguego, ragazzi, guarda incontro luce, però disgricione, e quando io, cammène pure disgricione, non soltanto, cammène torta, tirano qua, cioè fanno una diagonale, non va dritto, quello va disgricione, e quando io ti guardo soppruccio, che significa? Quello mi sta guardando soppruccio, e quando ti vuoi dire qualche cosa, e sospetto, 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 va bene, amici, quindi Mastraver, ti sta guardando sgricione, sospetto, sospetto, ciao! Grazie a tutti!